Anziani sempre più soli e bisognosi di assistenza. Non è l'allarme lanciato da un'organizzazione caritatevole ma la diretta conclusione che discende dai dati sull'aumento degli amministratori di sostegno in regione diffusi dal presidente della Corte d'Appello, Oliviero Drigani, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sono aumentati minore esponenziale quattro volte tanto in certi tribunali. La qualcosa significa che c'è molta attenzione perché c'è sempre più bisogno di assistenza delle strutture giudiziarie ai vecchi, alle persone sole e alle persone che presentano problemi di antica o anche semplicemente proprio di solitudine. Sono 796 in più in un solo anno gli amministrati in Friuli Venezia Giulia di cui 113 a Trieste, 80 a Gorizia, 372 a Udine e 231 a Pordenone. Nel capoluogo regionale in particolare il dato è passato dalle 1.256 persone del 2011 alle 2.108 attuali. Dato sociale a parte, il presidente Drigani ha poi sottolineato il buono stato di salute del distretto. La durata media dei processi si è accorciata di molto negli ultimi anni con la garanzia della media di due anni per grado di giudizio e una diminuzione di circa 300 giorni del procedimento rispetto a otto anni fa. C'è uno scoglio però legato ai circa 700 fascicoli d'appello rimasti fermi in questi anni nei tribunali di Trieste e Udine. Molti fascicoli di appello sono rimasti fermi nei tribunali, nei tribunali più grossi, Udine e Trieste, perché non c'erano persone, personale, che potesse gestire la fase cosiddetta del post dibattimento. Il che significa che il prossimo anno e quello successivo avremo il rischio di maggiori casi di prescrizione. A ciò si somma ancora una volta l'appello per l'assunzione di personale, viste le 111 scoperture in pianta organica. Anticipando invece la cerimonia di domani, Drigani ha voluto sottolineare i reati sui quali nel corso dell'ultimo anno è cresciuta ulteriormente l'attenzione, stalking e molestie in primis. Certamente osserviamo un incremento dei procedimenti che riguardano i cosiddetti soggetti deboli, cioè donne, minori, anziani, persone che presentano qualche deficit psicologico e o culturale che si trovano esposti ad aggressioni di ogni tipo e che devono essere tutelati.